Signori, abbiamo 4 milioni e oggi li spenderemo tutti per il nuovo DLC O forse no, vedremo Oggi alle 19 siamo in live su Twitch, non mancate, link in descrizione Salve a tutti e bentornati in questo nuovo episodio dell'unica serie di Gito Online Abbiamo 4 milioni e 300 mila dollari per alcune cose che vi spiegherò dopo Siamo qui nel mio fantastico hangar pieno di nulla C'è un bellissimo cubano, il cubano 800, attenzione E quello, vabbè non lo indica Comunque io direi di cominciare tra l'altro facendo un recupero Però prima di tutto voglio vedere se entra qualcuno Nel frattempo, che aspettiamo di vedere se entra qualcuno Vi dico che in live su Twitch, ci sono i live ogni giorno su Twitch alle 19 Ho perso, oh, sto perdendo sempre al casino, sempre Com'è possibile sta cosa? Uh, attenzione, si è unito qualcuno, bene, invitiamolo subito Allora, via, materiali chimici, andiamo Oh, che bella, la missione più divertente di tutte Ma devo andare lì, prendere le scorte e tornare indietro, fine, ottimo Ma ragazzi, guardate, facciamo una cosa Io mi butto, vado a fare un'altra cosa, andate voi Allora ragazzi, io prima di continuare mi devo prendere due taglie Questa, eccola, guarda che bella taglia Non è morto, ma è una truffa questo cannone del laser Non uccide, ma con che cazzo di veicolo sta? Ma scusami, ma non sta Eh, scusa eh, per caso l'ho già detto Scusa ragazzi Oh, 5.000 dollari Ma cosa fanno? Sta lì, sta lì Ma che stupidi Ma perché seguono me? Ma posso avere associati questi stupidi? Ecco l'altra taglia, non c'è più Ma qua, e se è fatto uccidere? Mamma mia Eccoci qua Che bello ragazzi Oh mio Dio, ma dove cavolo sarà? Lo so già dove sta Sta al laghetto qui sotto Eh, però, figura, ti devo atterrare Allora ragazzi, piano 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 Atterra Grazie Allora guarda, io mi prendo questo Non facciamo, non facciamo scherzi Perfetto, ciao Ci spara Spara cretino Oh, sta arrivando questo C'era anche ora Oh E lascia Lascia Madonna Che coglione di un gioco Lascia il cazzo Grazie mille No, no il cazzo Il cazzo di carico, eh Aspetta Ah, ci sono questi due Che vogliono far la festa Ok Comunque vorrei sempre ricordarvi In descrizione il link di Instant Gaming Giochi scontati Credito scontato Per la Playstation Per la Xbox Eccetera, eccetera Andate a darci un'occhiata Mori, grazie Non prenderete le mie scorte Bastardi Scusami tu Cos'è che vorresti fare? Prendere le mie scorte Sì Due volte ce la farai Sì, sì Se non hai proprio capito Forse non hai proprio capito Grazie a tutti Ma vaffanculo va Buttati bravo buttati Questo devi fare Ma sto tornando l'amichetto ancora Ma muori va Vabbè in realtà questo qui Piano 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 Ok Questo qui era decente in realtà Prese e andiamo via Ah ha distrutto il carico Ah ha capito che non lo poteva rubare Allora l'ha distrutto Sì questo si è ripreso al jet Certo perché sono stupido Porca troia Ronchi Ma dai proprio nel momento migliora Vabbè guarda tanto è scarso Muori grazie mille Mi prendo anche questa taglia Allora tu amico mio devi darmi la taglia grazie Ah 5000 buono Ah questo si caga sotto Continua a suicidarsi vediamo adesso Muori Questo devi fare Eh bravo Teletrasportati via bravo Eh staltro si è messo in organizzazione del fantasma Io non posso fare niente Va bene Vedremo se arriva Ah ha l'hanno ucciso Bene Questo ti meriti Ma guarda un po' poi Chi l'ha ucciso Un altro amico col jet Ehi la Cosa succede? Stai per morire eh Ecco cosa succede Muori Perfetto Grazie mille Ma tra l'altro c'è un'altra taglia di 5000 L'ho visto prima Che adesso mi prendo Grazie Ma sapete che c'è visto che questi tanto stanno combattendo tra di loro Io me ne sbatto completamente le palle Avvio un altro recupero qui Oh merda Oh mer Merdi No 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 Tattattara tattara tattara Porca tro Guardalo Ah ah Non mi prendi No non mi prendi Aspetta devo fare una cosa guarda Arca put Oh non è morto Non è morto Oh merdi Sì nini No 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 Lascia stare Lascia stare Porca troia Porca puttana Lascia perdere il carro armato di merda Senti io faccio una cosa guarda No 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 Buttati Ciao Ok perfetto Beh No Mica tanto Beh Come dicevo Mica tanto bene Fuck you with god mode Ha pure coraggio Ha pure coraggio Non mi ha nemmeno colpito Non mi ha nemmeno colpito Vabbè Eh raga Ma ammettete che non sapete giocare Ma cosa vi costa Dai Ma che divertente Anche questa missione di recupero Bisogna distruggere la base Eeeh Che bello Andiamo Eh ma sti bastardi Mi stanno danneggiando il laser Porca puttana Dovete morire tutti Bastardi Oh finalmente Prendiamo sti materiali su Ah ma stanno a bordo del buzzard E allora Perfetto Lasciamo qui il laser E andiamo via Ah consegna sti cosi E fine Ma Ma cosa Cosa cazzo faceva questo Azzardo Oh rip Oh rip 17 a 2 E' uscito un nuovo video In esclusiva per gli abbonati Per vederlo abbonati gratis su twitch Con amazon prime O da 99 centesimi Qui su youtube Guida completa In descrizione Benissimo Qua ci sono delle taglie E saranno mie La prima è mia 3000 Buono dai E anche la seconda è mia Fermati un attimo amico Farà solo un secondo Eh grazie mille Ah 1000 dollari Meglio di niente dai Aspetta che non finisce qui Non finisce qui Tutti con gli air In sta sessione Aspetta che danneggio un po' questo Ok E vado a prendere quell'altro Porca di quella Puttana Mamma mia Tu devi morire Grazie Perfetto Porca troia Adesso c'è st'altro Ma va a cagare Va Dai Prendetevela con qualcun altro Su non rompe dei coglioni Vaffanculo va Vaffanculo Si buttati Bravo buttati Stronzo Ah Sono morto Ma sei morto anche tu È quello di prima abbandonato Bene Questo deve succedere Guardate ragazzi Lasciamo perdere Faccio finta di non aver visto Basta che mi lasciate in pace Oh Attenzione un'altra taglia Ehi là amico Con la taglia Oh cazzo Dai alzati prima di lui Ok perfetto Ehi amico Dicevo devi morire Oh Devi morire Grazie mille Oh bene 7000 E aumento di rango Ottimo C'è uno tra l'altro Che sta arrivando col veicolo In città Bene Andiamola a prendere Amico mio Fermati un attimo Che fai lì Oh merda Ma Ok bene Meglio forse lagga Sto tizio Mi sa di sì Guarda Mi sa che lagga Giusto un pochino Beh Ma Vabbè Credo sia arrivato il momento Di giocare un po' al casino Sperando di non perdere Come al solito Allora Dammi ste 50.000 Porca puttana Fa che io vinca Ti prego Sono tutti i miei guadagni Di oggi Per favore Dai Dai tu mi sei simpatico Su scommetti Ti prego Delle carte buone Sì Dai Dai un bel lasso Vabbè ovviamente no Dai dammi carta Non darmi un 10 Porca Oh mio dio Ma non è davvero possibile No non è possibile Ma qualsiasi cosa faccia Io perdo Altri 20.000 Vai Dai dammi una carta Su ma tanto No stai Guarda No ma Non è possibile Ci deve essere qualcosa Che non va In sto account Giusto Perché Perdo sempre Allora Dai Ti prego Ti prego Anzi Non questo Campagna stagnante Vai Per favore Guarda Mica recupera il 2 Mica recupera Guarda che figlio di puttana Ma che Che merda di cavallo hai Ma che merda di cavallo hai Ma dai Ma vaffanculo Sto account è sfigatissimo eh Ah Ragazzi 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 Che volete fare Niente Figli di puttana Stronzo Tanto Tanto tirapino Guarda che faccia di merda Che c'hai Uh Lotta da business Bene Andiamo subito Allora Attenzione Ma non si entra da qui È una truffa Quella entrata Maledetti Ma non c'è nessuno Bastardo Ma che cazzo vuoi Oh merda Il fuoco Stronzo Allora Dammi Perfetto Andiamo via Prendi la moto di merda Andiamo a consegnare Bene Dopo sette anni Quattro mesi E ventidue giorni Siamo arrivati a consegnare Eh beh Questa si è Solo la prima È solo la prima Bene Sono tornato Vaffanculo Allora dammi Sto Porca Troia Ma da dove Da dove Vaffanculo Dammi sta cosa Bene E andiamocene via Oh che bello Siamo arrivati Consegna sto schifo Allora visto E considerato che Eh visto E considerato che Mi schianto E che tanto Non riesco a finire La missione In questo tempo Direi che faccio L'acquisto di oggi Ma chi se ne frega Allora ragazzi L'acquisto di oggi È come prima cosa Attenzione Un bunker ovviamente Eh ci vuole Il bunker Con alloggio Logicamente E basta Ma si Chi se ne frega E compralo così Grazie Il prossimo acquisto Che è molto importante Per il nuovo DLC Semplicemente Per il fatto Che probabilmente Ci sarà una nuova arma Mark II Spero tante altre nuove Mark Abba Avete capito Amrima Mark II È il centro operativo mobile Con la Con il Phantom Custom Chi se ne frega Ovviamente con Centro di comando Sì E Officina e armeria Anzi no ma Armeria solo E basta Quanto c'è di differenza Officina e armeria No 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 Io direi proprio Che mi prendo solo L'armeria Perfetto Colori interni Colore di base Nero E rosso Bello così Perfetto E direi che adesso Con questo Abbiamo finito i soldi Beh insomma Ho ancora Mezzo milione di dollari Bene ragazzi Direi che per oggi Abbiamo fatto abbastanza Vi ricordo che Martedì esce il nuovo DLC Sarà in live su Twitch Per mostrarlo Quando uscirà quindi Verso le 13-14 Vi ringrazio per avermi seguito Finora E noi ci rivediamo Alla prossima